L'andrangheta sangue, colletti bianchi e loge, blizza l'alba dei carabinieri con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nuovo colpo alla cosca Grande Aracri, in arresto anche un avvocato, svelati retroscena di un delitto eccellente e l'interesse verso la massoneria. Protezione civile, i comuni impreparati, in Calabria tornano le piogge e con esse la paura, gli enti sono preparati ad affrontare eventuali situazioni di emergenza connesse a disastri o calamità, molte amministrazioni non si sono ancora dotate nemmeno dei piani necessari. Carlo Iannuzzi, la regione si impegna, il presidente contatta telefonicamente il giovane ingegnere informatico ricoverato a Buenos Aires per le cui cure in Calabria è scattata una grande gara di solidarietà, la promessa affinché la famiglia non rimanga sola. Sanità, Oliverio scrive al ministro, nuova lettera del governatore al titolare del di Castello della Salute, l'invito affinché Beatrice Lorenzian rivede il piano di rientro dal deficit calabrese mentre la gestione commissereale resta nel mirino della politica regionale. La grande musica oltre Capodanno, Eman incanta il pubblico di Catanzaro, la sua città con un grande concerto in piazza Matteotti, al Politeama invece tutto esaurito e standing ovation per i grandi classici di Rossini, Puccini e Verdi. Telespettatori di La C, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione in apertura del nostro telegiornale della cronaca, vasta operazione questa mattina messa in atto dai carabinieri con la collaborazione del coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che hanno arrestato un nuovo duro colpo alla cosca Grande Aracri di Cutro, svelati in retroscena di un delitto eccellente e gli interessi della cosca nel mondo dell'imprenditoria. Ci spiega tutto Gabriella Passariello. Avrebbero voluto condizionare le decisioni della Suprema Corte di Cassazione usando il potere del denaro e avrebbero messo in atto un giro di estorsioni o per accaparrarsi subappalti nella fase di realizzazione di un parco eolico o per ottenere servizi e prestazioni ai danni di diversi villaggi turistici del litorale ionico, a finire in manette in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP distrettuale Domenico Commodaro su richiesta della DDA, 16 affiliati al clan Grande Aracri che aveva esteso il suo dominio sulle province di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valencia, contando anche i sussodali che avrebbero operato a Roma, Emilia Romagna e Lombardia, 6 gli indagati a piede libero. Si tratta di una prosecuzione dell'operazione Criterion che il 28 gennaio 2015 aveva portato a 36 fermi, una costola dell'inchiesta dalla quale era scattata la più vasta operazione antimafia a nome in codice Emilia. I dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa in procura, tra i reati contestati a vario titolo agli indagati, la partecipazione all'omicidio di Antonio Dragone avvenuto il 10 maggio 2014, la ricettazione, l'usura, la rapina e la violazione in materia di armi. E tra le persone arrestate stamani c'è anche un avvocato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa con la Cosca, che per alimentare il suo potere e la sua influenza aveva stretto rapporti anche con alcuni settori della massoneria. Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche emerge come la Cosca Grande Aracri si servisse di professionisti in grado di avvicinare ambienti curiali, i cavalieri di Malta e le organizzazioni massoniche. Tra questi, Grazia Veloce, 72enne attualmente ai domiciliari, il cui nome appare già nell'ordinanza dello scorso gennaio, quando cercò di spostare da una casa circondariale ad un'altra un affiliato della Cosca. O anche Salvatore Scarpino, che in un'intercettazione spiega come sia importante sedersi al tavolo della massoneria. Dalle indagini coordinate dal pool di magistrati Giovanni Bombardieri, Vincenzo Lubberto, Domenico Guarascio e Vincenzo Capomolla, è emerso il ruolo dell'avvocato Rocco Corda, che avrebbe cercato di aggiustare un processo in cassazione a favore del clan, anche se allo Stato gli inquirenti non sono riusciti a dimostrare quali siano le persone che abbiano potuto favorire la Cosca. Quel che è certo è che Corda viene ritenuto organico alla Cosca, quale soggetto referente del boss Nicolino Grande Aracri. L'avvocato veniva mandato nei cantieri e a partecipare a riunioni importanti col compito di fare da mediotore per questioni delicate come gli omicidi. Il ruolo dei professionisti e l'interesse dell'Andrangheta nel mantenere i rapporti con la massoneria, su questo si è soffermato a margine della conferenza stampa il procuratore vicario della DDA Giovanni Bombardieri. Sono interessati da questa operazione di oggi alcuni professionisti che possiamo dire rappresentano la faccia pulita e la virgoletta di Nicolino Grande Aracri. Lui stesso che lo dice quando parla di uno di questi professionisti, di un avvocato che opera nel Clotonese, dice mando lui, ad esempio per quanto riguarda la gestione dei suoi interessi in un villaggio turistico, dice mando lui perché là ci sono i carabinieri, non ci possiamo andare noi, ci mando lui. O comunque quando fa riferimento ad alcuni cantieri o ad alcune attività in cui lui stesso ha degli interessi, dice ci faccio andare noi, lo faccio parlare e quindi è evidente che lo utilizza come strumento per l'affermazione dei propri interessi. Le indagini hanno dimostrato l'interesse che l'Andrangheta per la massoneria, vi sono alcune conversazioni di alcuni indagati che fanno riferimento proprio alla importanza che può avere sedersi al tavolo con soggetti massoni, importanti, tra virgolette per bene, che possono anche essere all'oscuro della reale attività andranghetista del soggetto che gli è accanto, con il quale però intessere relazioni che potranno poi tornare utili. Proprio di questo parlano in particolare un indagato in macchina dicendo è importante tenersi al tavolo e conoscere persone importanti e fa riferimento proprio agli ambienti massonici. Nessun agguato sarebbe stato vittima di un incidente e quindi di un omicidio colposo il 36enne Francesco Sergi ucciso con un colpo di pistola alla testa, la ricostruzione del caso in questo servizio. Una tragica fatalità, omicidio sì ma colposo, nessun agguato ne intendrangheta stavolta. Francesco Sergi, il 36enne di Bovalino incensurato, sposato, padre di tre figli, attinto al cranio da un proiettile mentre si trovava in un sotterreno a Platì, è stato vittima di una tragica fatalità. Hanno fatto piena luce nell'arco di 48 ore i carabinieri della compagnia di Locri che negli sviluppi dell'indagine hanno immediatamente ragguagliato la procura ordinaria. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, Sergi sarebbe stato attinto alla testa da un proiettile esploso dalla pistola che stavano maneggiando alcuni amici che si erano ritrovati in quella zona. Sarebbero stati gli stessi amici ad abisari familiari che, giunti sul posto, hanno chiamato un'ambulanza e tentato un'inutile corsa verso l'ospedale. Interrogati i familiari e gli amici, verificata la ricostruzione anche alla luce di una prima comparazione con una sommaria valutazione balistica, adesso si attendono le risultanze definitive delle analisi scientifiche per chiudere il caso. E torniamo adesso ad occuparci del caso di Carlo Iannuzzi. Il giovane calabrese ricoverato in gravi condizioni in una clinica di Buenos Aires dopo aver subito una brutale aggressione a scopo di rapina nel mese di novembre. Il ragazzo di Roccella Ionica è stato raggiunto telefonicamente dal presidente della regione. È riuscito a parlare anche con lo stesso Carlo Iannuzzi, il governatore Oliverio, che dopo l'appello lanciato dalla cantante Piero Pelù a capodanno dal palco Cosentino, ha contattato la famiglia del giovane di Roccella Ionica e ricoverato in Argentina dopo aver subito una violenta aggressione. Ed è un vero e proprio cordone quello che si sta costruendo attorno al giovane, coordinato dal comitato Il Puente per Carlo, che ora chiede un incontro con Oliverio e che si lavori per fare in modo che, quanto accaduto, possa diventare il caso pilota per integrare le norme a tutela della salute di chi resta vittima di eventi gravi ed eccezionali all'estero. Un appello accolto dal Democrat, che ha assicurato di avere già preso contatti con il console italiano e le associazioni dei calabresi a Buenos Aires, mentre nei prossimi giorni dovrebbe contattare la farnesina. Il 27 novembre scorso il ragazzo è stato aggredito da alcuni malviventi che lo hanno derubato di tutto e lasciato a terra agonizzante. I medici lo hanno dovuto immediatamente operare al cervello ed asportare parte del cranio. Ora si trova nell'ospedale italiano di Buenos Aires, che è però clinica privata non convenzionata. Il costo delle sue cure mediche sarebbe di oltre 50.000 euro. È cosciente ma parla a fatica, problemi mnemonici e difficoltà di movimento. La prossima tappa è l'operazione del 2 febbraio, che dovrebbe permettere di ricostruire con una placca di platino la parte di cranio asportata. Intanto il Comitato ha organizzato una raccolta fondi per pagare le spese mediche, anche se si profila la possibilità che queste possano essere coperte dalla stessa azienda che lo ha assunto. Andiamo al Reggio, dove il Movimento Reggio Non Tace ha tracciato un bilancio, parlando di antimafia dei fatti e di antimafia dei soldi e delle parole. Il Movimento, nato dopo gli attentati, che nel 2010, anno scorso Reggio Calabria, ha tenuto un incontro pubblico a cui ha partecipato il nostro inviato Francesco Creazzo. Scegliere la gratuità per riesistere liberi. A sei anni dalla bomba alla Procura Generale di Reggio Calabria, il Movimento Reggio Non Tace racconta se stesso e fa il punto della situazione. Tra antimafia istituzionalizzata e antimafia dei movimenti, fra antimafia mercenaria e gratuità come concetto chiave per la vita civile. Per farlo, accanto ai membri del Movimento, anche il giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni, 40 anni in prima linea, nella Sicilia delle guerre di mafia e del periodo stragista. Bisogna cominciare a preoccuparsi di meno dell'aspetto militare delle mafie, ha detto Bolzoni e l'auditorium Don Orione. In Sicilia è stato smantellato, in Calabria lo sarà, grazie al lavoro della nostra magistratura e delle nostre forze dell'ordine. Quello su cui bisogna dirigere la nostra attenzione, ha proseguito il giornalista, è il nuovo modello di azione mafioso. Le mafie fanno cose legali, ma illegalmente, inserendosi e confondendosi nella politica e nelle organizzazioni civili. Fra queste anche l'antimafia, un'antimafia, dicono gli organizzatori del convegno, a volte mercenaria, che intercetta un fiume di soldi pubblici per tornaconto personale, sottraendoli di fatto alla vera antimafia, quella degli insegnanti, degli educatori, degli assistenti sociali, quella di chi fa sentire la presenza dello Stato sul territorio ogni giorno. E questi sono giorni di maltempo che è tornato a farsi vedere sulla nostra penisola ed è tornata anche la paura del dissesto idrogeologico. I comuni calabresi però non sono pronti a fronteggiare le emergenze. Ci spiega perché Tiziana Bagnato. Basta qualche giorno di pioggio in interrotte per fare ripiombare sulla Calabria la paura di nuovi allarmanti disastri. È ancora fresco nella memoria quanto accaduto nella Locride nei primi giorni del novembre scorso, quando le acque inghiottirono quasi un chilometro di ferrovia e spezzarono strade e collegamenti. Un territorio fragile il nostro, vittima di se stesso, ma anche di una sete di retorica a cui poi spesso non seguono i fatti. A dimostrarlo i numeri dei comuni che hanno realmente pronto un piano di emergenza comunale. Pochi, pochissimi, almeno stando l'inchiesta del Quotidiano del Sud a firma della collega Laura Cimino. Solo il 54% sarebbe in regola, prendendo così sotto gamba, uno strumento che in realtà è il primo necessario passo affinché si possa intervenire in caso di terremoti, alluvioni, frane e tutti i fenomeni dell'emergenza. E nel piano che viene indicato in quale zona convergere, qual è il posto più sicuro e riparato, dove verrà allestita l'eventuale tendopoli, ma anche il mezzo attraverso cui vengono distribuiti incarichi e responsabilità. E la Calabria fa orecchie da mercante preceduta solo da Campania, Lazio e Sicilia per il negativo primato. E Carlo Tanzi, direttore della protezione civile calabrese, lancia allora l'allarme. Perché non ci sono solo i comuni in cui il piano è completamente assente, ma anche quelli che non lo hanno aggiornato o lo hanno copiato, come nel caso emblematico dei comuni di montagna nei cui piani figura l'emergenza tsunami. E voltiamo pagina e parliamo di sanità, rivedere il piano di rientro dal deficit sanitario, questa la richiesta formulata dal Presidente della Regione Mario Oliverio, che si è rivolto direttamente al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Ciò mentre la gestione commissariale del comparto continua ad alimentare il dibattito politico. Michela Mancini. Il piano di rientro sul deficit sanitario va ridiscusso. Mario Oliverio, in una lettera al Ministro della Salute Lorenzin, ha chiesto la convocazione di una riunione per parlare dell'emergenza sanitaria calabrese, i cui appositi piani operativi sono scaduti il 31 dicembre del 2015. C'è polemica nelle parole del Presidente della Giunta, che ancora una volta giudica inadeguata e inefficiente la gestione della sanità da parte delle strutture commissariali. Mentre Oliverio chiama in causa il Governo nazionale, l'ex Assessore Guccione si rivolge direttamente al Consiglio regionale, il cui ruolo istituzionale, dice, va rivendicato con forza. Per Guccione bisogna convocare un Consiglio ad hoc, perché è solo quella la sede deputata ad avviare un'operazione verità e a chiedere conto delle iniziative da sviluppare per uscire da uno stato di criticità che rischia di mettere seriamente in discussione la salute dei calabresi. Davanti ad un sistema al collasso, ribadisce l'ex Assessore, solo nel 2015 sono stati oltre 70.000 calabresi emigrati fuori regione per cure sanitarie, le diatribe devono finire e chi non è stato in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati deve essere rimosso dall'incarico. E parliamo adesso di politica. La nascita di Sinistra Italiana, il partito di cui è fondatore Alfredo Dattorre, sta provocando ripercussioni sul panorama politico anche in Calabria dove è stata zerata di fatto la composizione del direttivo di Sinistra, Ecologia e Libertà, il partito di Inchi Vendola che nella nostra regione è rappresentato da Gianni Speranza. L'approdo di Alfredo Dattorre a Catanzaro e la presenza al suo fianco di Gianni Speranza per la prima calabrese di Sinistra Italiana e il nuovo movimento politico nato su impulso dei fuoriusciti dal Partito Democratico erano stati un eloquente presagio per le sorti di Sinistra, Ecologia e Libertà e per il panorama politico di un centrosinistra in preda a lacerazioni e contraddizioni. I primi effetti, a distanza di poche settimane, si ravvisano su Sinistra, Ecologia e Libertà o per il partito di cui in Calabria è o era leader. Gianni Speranza, azzerato il direttivo, il partito viene affidato ad un coordinamento che si occuperà di guidare la fase di transizione. Ma transizione verso cosa? Verso, si è detto nel corso dell'assemblea svoltasi alla mezzaterme, l'unità della Sinistra, nell'ottica di un percorso di cambiamento ritenuto necessario, ma troppe volte solo promesso. L'assemblea regionale del partito, fondato da Niki Vendola quindi, non ha avuto dubbi e all'unanimità ha deciso di azzerare la segreteria regionale e di nominare Angelo Broccolo, Mario Melfi, Gianni Speranza e Nancy Valente, assieme al tesoriere Franco Barretta, i componenti del coordinamento che dovrà guidare il partito calabrese appunto in questa particolare fase di transizione. Sael verso Sinistra Italiana quindi, che sarà, è stato detto a Chiara Lettere, una sorta di spina nel fianco sinistro della regione del governatore, accusati di aver disatteso gli impegni assunti in fase pre-elettorale. Anzi, noi, hanno detto Speranza e compagni, siamo stati traditi da Oliverio. E restiamo alla politica per vedere qual è lo scenario che si troverà ad affrontare la Sinistra in questo 2016, in prosecuzione degli avvenimenti del 2015. Cosa accadrà quest'anno? Ce lo spiega in questo servizio Michela Mancini. Quello appena trascorso è stato un anno complesso per il centrosinistra calabrese. Viaggiare uniti è stata e continua ad essere un'impresa, specie se la corrente è ostile e il mare, anche quando sembra quieto, cova tempesta. La barca del PD calabrese ne ha affrontate di diverse. Una fra tutti è stata a Rimborsopoli. L'inchiesta giudiziaria sui rimborsi regionali, conclusasi con il defenestramento di Guccione, ha indebolito l'immagine di Oliverio. La politica lo voleva garantista, gli elettori l'esatto opposto. Si è passati dalla giunta degli inquisiti a quella dei professori. Il tentativo, sempre lo stesso, recuperare fiducia, quindi consensi, ma tappato un buco se ne apriva un altro ed è stata la volta della sanità, tema caro tanto ai politici quanto agli elettori. Il perenne contrasto tra Oliverio e il commissario Scura ha fatto emergere le contraddizioni interne al partito e non solo quello calabrese. In tanti che avevano giurato fedeltà al presidente della giunta hanno girato le spalle quando il commissario alla sanità ha dichiarato di agire solo per conto del governo nazionale. Oliverio, un uomo solo. Oliverio ostile a Renziani, calabresi e non. Oliverio che mette le toppe. È un PD, raccontato anche da un settimanale nazionale, troppo occupato a gestire le sue lotte intestine. Un partito distratto che, se non ricorda di essere al governo, rischia di perdere la più importante delle sue partite. Dal centro-sinistra al centro-destra, anche qui divisione e lacerazioni, ma il 2016 potrebbe regalare al centro-destra un ministro calabrese. Ilvo Diamanti li ha definiti partiti personali, quelli che seguono ascesa e declino del loro leader e insieme a lui nascono e muoiono. La sorte del centro-destra in Italia, ma soprattutto in Calabria, è la sintesi perfetta di questa parabola. Concluso il regno di Berlusconi, il partito si è lacerato. Stessa sorte per la destra nostrana. All'indomani della scomparsa di Scopelliti, le righe si sono rotte. Il 2015 è stato l'anno delle divisioni, delle emorragie, della perdita dei consensi. Le ultime regionali non hanno solo sancito una sconfitta elettorale. Fu allora che le scelte della coordinatrice regionale Iole Santelli portarono ad una rottura frontale con i fratelli Gentile a Cosenza e quindi con il nuovo centro-destra di Alfano. E da lì arrivano tre consiglieri a Palazzo Campanella che possono considerarsi alleati esterni per la maggioranza di Oliverio a Roma come in Calabria. Il senatore Gentile cammina a braccetto con Renzi in attesa di una nuova nomina a sottosegretario. In un ipotetico rimpasto di governo si pensa addirittura alle deputate Dorina Bianchi e Rosanna Scopelliti, Forza Italia continua invece a viaggiare divisa. I cinque consiglieri eletti da FI non si sono mai riuniti sotto la stessa bandiera. Nicolò, Morrone e Salerno da una parte, Tallini e Orso Marso dall'altra. Per non parlare dei casi delle singole province, più di uno ha chiesto la testa della Santelli. Da Roma è intervenuto Berlusconi. Iole non si tocca, certo, ma da qualche parte bisognerà cominciare a costruire il partito del dopo. Un re bisognerà pur incoronarlo. Cambiamo argomento, un grande concerto a Catanzaro per Eman. Il cantante si è esibito sul palco di piazza Matteotti facendo il pieno di applausi. Ho visto di spalle una parte di me, ho impiegato degli anni per perdermi, ho visto del falso anche dentro di te, ho ucciso dei sogni per crederti. Da dammi da bere a svegliati, passando per i suoi successi più recenti, giorno e notte, Eman, il cantautore Catanzarese Eman, ha incantato centinaia di giovani che hanno riempito piazza Matteotti. Una performance durata per circa mezz'ora, offrendo il proprio contributo al percorso di rilancio del centro storico, passando dal reggae al dark, dall'elettro rock alla musica d'autore contemporanea, senza farsi mancare influenze dal sapore internazionale. Musiche e parole che hanno raccontato di sogni e di illusioni dei ragazzi di oggi, dando corpo alla rabbia che diventa speranza e riscatto, affrontando tematiche sociali come la disabilità e la violenza sulle donne. Eman ha augurato al suo numeroso pubblico e a tutta la città un felice 2016 con una rinnovata capacità di dare una svolta alla propria vita. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con altrove per la serata conclusiva dell'originale mostra allestita a Palazzo Fazzari. Tutto esaurito al concerto di Capodanno che ha avuto luogo nel Teatro Politeama di Catanzaro e scroscianti applausi per i capolavori di Puccini, Verdi e Rossini. Dai celebri capolavori di Puccini, Verdi e Rossini alle musiche di Bizet fino all'immancabile tradizione dei waltzer viennesi di Strauss. Il concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica della Calabria con i suoi 62 strumenti musicali ha lasciato con il fiato sospeso la platea del Politeama che ieri ha registrato un sold out di presenze. C'erano anche il soprano Rosanna Logreco premiata in diversi concorsi nazionali e internazionali e il tenore Diego Cavazzin che interpretando la bohème, turandot, madama butterfly, tosca ha offerto un repertorio ad hoc per gli appassionati di lirica. Fondata nel 2012 l'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia, pianista con una lunga esperienza maturata nei teatri europei e direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Nocera Terinese è diventata nello spazio di soli tre anni una realtà nel panorama musicale e non solo calabrese. E concludiamo con lo sport, fermi i campionati di calcio, l'attenzione si concentra sul basket, è crisi profonda per la Viola che proprio non riesce a risollevare la sua stagione. La Viola prova ad uscire dalla crisi ma proprio non ci riesce. Ennesima sconfitta in campionato ieri a Rieti dove davanti alla squadra di coach Nunzi è scesa in campo una Viola molle con percentuali di tiro disastrose. Ai nero arancio non ne va una giusta, i punti di forza finora dimostrati misteriosamente spariti e a gangio in classifica proprio ai danni dei rietini fallito. Bruttissima prova di squadra, si salva il solo Dobbins, autore di una partita da 12 punti e caratterizzata dalla solita intensità, accanto a lui il deserto. Se l'andamento altelenante di Brekings è una costante, Freeman dà conferma di avere enormi problemi fisici che non gli consentono di essere un fattore. Opache anche le prove delle stelline di coach Benedetto, Costa ridimensionato immediatamente dalla situazione falli lascia il posto a uno spinelli sfocato, male anche Lupusor, 1 su 4 al tiro e il top scorer della squadra Roberto Rullo. Dall'altro lato l'embipi della gara è il capitano Picchio Feliciangeli, i suoi numeri dicono 18 punti con 4 su 4 da 3, 3 su 5 da 2 e 42 anni, sì avete sentito bene, 42 anni di età, la dimostrazione di cosa si possa fare con determinazione e passione per il gioco. Ed è tutto, termina qui l'appuntamento con l'informazione, grazie per essere stati con noi prima di chiudere il sommario delle principali notizie di questa edizione. avrebbero voluto condizionare le decisioni della Suprema Corte di Cassazione usando il potere del denaro e avrebbero messo in atto un giro di estorsioni o per accaparrarsi subappalti nella fase di realizzazione di un parco eolico o per ottenere servizi... Tragica fatalità, omicidio sì ma colposo, nessun agguato, niente in drangheta stavolta. Francesco Sergi, il 36enne di Bovalino incensurato, sposato, padre di tre figli, attinto al cranio da un proiettile mentre si trovava in un suo terreno a platì, è stato vittima di una tragica... E' riuscito a parlare anche con lo stesso Carlo Iannuzzi, il governatore Oliverio, che dopo l'appello lanciato dalla cantante Piero Pelù a capodanno dal palco Cosentino, ha contattato la famiglia del giovane di Roccella Ionica ricoverato in Argentina dopo aver subito una violenza. Basta qualche giorno di pioggia in interrotte per fare ripiumbare sulla Calabria la paura di nuovi allarmanti disastri. E' ancora fresco nella memoria quanto accaduto nella Locride nei primi giorni. Ho visto di spalle una parte di me, ho impiegato degli anni per perdermi, ho visto del falso anche dentro di te, ho ucciso dei sogni per crederti, da dammi da bere a svegliere. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.